Uno sciopero di 40 giorni condotto da un gruppo di lavoratori delle cooperative di facchinaggio alle prese con una vicenda di subappalti, esuberi e licenziamenti e ora non riuscendo più a gestire la complicata situazione, Coca-Cola per la prima volta dopo 42 anni di attività incessante decide di chiudere anche se solo provvisoriamente lo stabilimento italiano che si trova a Nogara nel Veronese mettendo in cassa integrazione i 450 dipendenti. Una chiusura provvisoria annunciano a fronte della difficile situazione e in concomitanza con lo sciopero programmato dai Cobas autori della protesta che vogliono chiedere al prefetto di intervenire per il reintrego di questi 45 lavoratori, molti dei quali immigrati. Inizialmente erano 14 lavoratori licenziati dalle cooperative a cui se ne sono aggiunti altri 29 accusati a vario titolo di non essere mai giunti in orario al posto di lavoro spesso perché stavano partecipando alla protesta. A momenti molto accesa con i lavoratori che sono saliti sui tetti dello stabilimento dormendoci anche la notte e addirittura avviando uno sciopero della fame. Un'occupazione che continua e che ha ovviamente creato un danno enorme alla multinazionale di Atlanta che pure non ha problemi di bilancio oltre che un problema di sicurezza. La chiusura dell'azienda fa partire la cassa integrazione per i 450 dipendenti di Nogara anche se l'azienda ha fatto sapere che questo provvedimento temporaneo non comporterà per loro una riduzione dello stipendio visto che Coca-Cola Italia contestualmente si farà carico di tutti gli importi economici necessari per garantire il 100% della retribuzione giornaliera a tutti i dipendenti per tutte le giornate interessate dalla cassa integrazione. Una soluzione temporanea annunciano i vertici aziendali auspicando che lo stabilimento torni presto in funzione nel rispetto della legalità e in piena sicurezza per tutti i soggetti coinvolti. Alle proteste dei Cobas e alla preoccupazione dei lavoratori per la ventilata delocalizzazione della produzione fuori dall'Italia si è unito ora l'intervento dell'ambasciata americana in Italia che si è mobilitata per una soluzione rapida chiedendo anche al governo italiano di intervenire. I sindacati chiedono invece il reintegro di tutti i lavoratori in mobilità compresi quelli iscritti ad ADL Cobas che hanno dato inizio alla protesta.